Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar, come vedete oggi la location è un po' diversa. Siamo a casa di Paolo, grazie Paolo per ospitarci, grazie mille. Abbiamo visto il video in cui Paolo ritirava le Jordan 1 per Dior, oggi ci permette di fare l'unboxing a casa sua. Tra l'altro, giusto un attimo una collezione qua dietro, parte della sua collezione che dopo andremo a vedere. Sembra fissato con le Jordan 1, ma magari mi sbaglio. Partiamo dal sacchetto, bellissimo sacchetto Air Jordan Dior, andiamo Air Dior, andiamo a vederle nel dettaglio. Abbiamo qua il mega box, io ti chiederei già uno zoom Marco perché secondo me siamo già fin troppo lontani e non vediamo i dettagli. Zoomiamo. Il box, diamo il logo e la scritta Air Dior, apriamolo, andiamo a vedere. Abbiamo un sacchetto Air Dior per una scarpa, le scarpe sono due e quindi abbiamo anche un altro sacchetto, sempre Air Dior, ottima qualità, ci mancherebbe con quello che costano. Eh Paolo, un minimo devono darci oltre la scarpa stessa. Abbiamo il piccolo pacchettino, anche qui Air Dior con un laccio bianco, con la punta argentata, con il simbolo, con il Jumpman, la scritta Dior dall'altra parte. Non so se si vede, dubito che questi dettagli si vedano bene. Qui andiamo un po' su qualcosa di pesante, andiamo subito con un bellissimo keychain con il Jumpman, l'altro keychain dall'altra parte, con il logo Air Jordan e le Wings. Eccole qua, le solette Air Dior e andiamo a vedere la trazione principale, la trazione principale ragazzi, eccola qua. Jordan 1 Air Dior, andiamo a vederla nel dettaglio. Sbam ragazzi, eccole qui. 3,60, Marco adesso te ne lancio una. Prima cosa che si sente con il mio nasone, un grande profumo di pelle, pelle di una qualità inaudita, ovviamente, ovviamente Marco. Te ne lancio una da vedere, così mi trovi anche tu tutti i dettagli che ci sono. Il top è di una pelle straordinaria, straordinaria, molto anche più spessa, secondo me, delle altre pelli che troviamo sulle Jordan 1 e tagliata, rifinita da Dio. Abbiamo la toe box bianca, che va a richiamare anche il pannello laterale e qua dietro. Tutto bordato di questo grigio chiaro. Una delle peculiarità di questa scarpa è questo swoosh con logo Dior, jacquard oblique. Si vede nel dettaglio, siamo vicino Marco, riusciamo a vederlo meglio. Perfetto. Ottimo. Anche qui cucito e bordato di nero, viene ripreso. Doppia cucitura questa. Doppia cucitura, mi dice giustamente Paolo. È un qualcosa, lui è super mega dettagliato, altro che noi. Abbiamo la linguetta, con anche qui tutto un richiamo. Questo qui è difficile Marco, è difficile farlo vedere questo. C'è tutto il richiamo dei logo Dior, tutta la linguetta cucito. Mi sa che non si vede. È difficilissimo da vedere. Ci provo. Sì, adesso sì. On top della linguetta abbiamo il nostro logo Air Dior, con lo swoosh. Il collo della scarpa è ben imbottito, molto imbottito, molto morbido. Troviamo all'interno di 8500 paia, come possiamo vedere, questo è il numero? 7865. Perfetto, 7865. Limitatissima naturalmente questa scarpa. Paolo, uno dei pochi fortunati, uno degli 8500 fortunati al mondo ad averla nella sua collezione. Un po' tutti lo invidiano, un po' tutti lo invidiano. Esterno abbiamo il logo con le Wings Air Dior, bellissimo. Mi faceva giustamente presente Paolo la doppia cucitura che va a tenere lo swoosh. Questa è impossibile da far vedere, possiamo fare tutto lo zoom che vogliamo, ma questa doppia cucitura su questa pelle fantastica che va a tenere lo swoosh Dior, doppia cucitura perché lo swoosh è bello imponente, bello ciccione. Abbiamo all'interno parte lo shoehorn che adesso andremo a rimuovere, con il logo Jumpman grigio, plastica, non cartone esattamente, come si trova nel Jordan 11. Abbiamo la nostra soletta con il logo Jordan in una scarpa e il logo Dior nell'altra. Per l'occorrenza possiamo invertire le nostre solette e togliere la soletta di spugna, diciamo morbida, e mettere questa molto più rigida in gomma. Stringhe su tutta la scarpa semi cerate, quasi cerate, un po' quelle che tu odi per le scarpe perché non si allacciano bene. Jordan Wallow, Travis Scott, esattamente, esattamente. Qui abbiamo le nostre stringhe che finiscono con questi, con queste tips, con logo Jordan e scritta Dior, una e una argentata. Alternativa, l'abbiamo vista prima, lacci bianchi che però io, belli grigi che mi piacciono così. Outsole, fantastica per queste scarpe perché è translucent, è bellissimo, ha questo azzurrino che fa vedere comunque attraverso la scritta Dior e il logo Air Dior con le wings nell'altra. Stupendo, bellissima Marco. Ti piace, no? Spettacolo, sì. Questa pelle, secondo me, criserà da pazzi, da matti, criserà tantissimo. Da piangerci. Da piangerci, appunto. Piangerci, ci piangerai, Paolo deciderai di metterle, le indosserai, le terrai, cosa vorrai fare? Perché ricordiamo, ricordiamo il prezzo. Prezzo retail? 1900 euro. 1900 euro. Prezzo resell un attimo di più. Attualmente? Attualmente sono... 10k? Circa 10k. Circa 10k, circa 10.000 euro. Le metterai, hai deciso che farai questa follia? Queste no. Queste no. C'è già un paio per la ragione. Perché? Perché c'è già un paio, perché prima abbiamo detto, Paolo è uno dei pochi fortunati che al mondo potrà avere un paio, no, due paia, perché non è da tutti. Così uno lo stocchi e uno lo rocchi, giusto? Quindi, vabbè, indipendentemente dal creasing, lui le mette. Come size, direi, quelle normali del Jordan 1, io non le ho provate, però, true to size, come tutte le Jordan 1. Io personalmente Jordan 1 vado o true to size o mezzo numero in meno, perché se non volete il creasing, mezzo numero in meno vi aiuta a ridurre un po' il creasing. A me piacciono comunque belle sbattute, belle rovinate, belle vissute le Jordan 1. Queste vanno tenute molto pulite, vanno tenute molto crispy, come colorway, come modello, secondo me. Vissute queste sono molto, molto belle. Possiamo vederla in diretta, andiamo a vederla. Qua un altro paio, lo vediamo, questo è vissuto, aveva dentro lo shield per proteggere il creasing. Adesso c'è il shoehorn dentro per tenerlo dritto, però, diciamo, ha aiutato un po' a limitare il creasing sulla tua box. Sicuramente criserà tantissimo. Chiediamo a Paolo di farci un non-fit review. Le butta i piedi e vedete come calzano, vedete come stanno. Ragazzi, andate assolutamente a vedere anche l'altro video in cui andiamo a fare il pick-up in store. Siamo andati a Monte Napoleone, store di Dior e le abbiamo prese con Paolo. Per cui, preparatevi, andate a vedere l'on-fit review adesso, subito qui dopo, e poi l'altro video del pick-up in store di Paolo. Ringraziamo Paolo, a breve gireremo anche un video sulla tua collezione, confermi? Confero. Confermi, su una parte della sua collezione, per cui stay tuned. Sneakers bar nel tuo armadio, sneakers bar nell'armadio di Paolo, proprio fisicamente nell'armadio di Paolo. Ragazzi, on-fit review e ci vediamo alla prossima. Andate a seguire tutti il profilo di Paolo qua sotto, nei link, nei commenti. Ciao ragazzi, on-fit review. Iscriviti al canale. I don't know if you like. I wish I had you, but I don't. That's fine. So I guess it's okay. Yeah, I guess it's okay. I ain't got nobody in my mind sometimes. I wish I had you, but I don't. That's fine. So I guess it's okay. Yeah, I guess it's okay. Yeah, I woke up This morning super happy Gotta get my caffeine and catch up with my homies Cause we are going up so fast Don't waste time doing things that